Mettere in connessione il mondo della scuola, l'impresa e la famiglia. E' questo l'obiettivo della nuova edizione dell'iniziativa di orientamento promossa dall'Ufficio Scolastico Provinciale e rivolta agli studenti della scuola media, i genitori e i docenti della scuola secondaria di primo grado, che si terrà venerdì 18 e sabato 19 gennaio presso l'auditorium di Arezzo Fiere e Congressi. Un'iniziativa che vuole coinvolgere l'intero sistema locale, le istituzioni scolastiche, e quelle formative, le associazioni di categoria e gli enti di ricerca, anche alla luce dei recenti dati che vedono la provincia retina, il territorio con il tasso di dispersione scolastica più alta della Toscana. Noi possiamo tracciare una fotografia che riguarda una scuola sicuramente vivace e presente nei vari settori del sistema di formazione, che ha delle ottime performance a livello alto, ma che denuncia alcuni limiti a livello anche rilevanti, a livello di recupero di situazioni più critiche che di fatto non riescono poi a rientrare nel sistema di istruzione. Quindi l'occasione del fine settimana che ci aspetta è legata a fornire alle famiglie la possibilità di vedere in un'unica soluzione l'intera offerta formativa della provincia e non una rappresentazione settoriale o selettiva sulla base dei propri interessi. E dall'altra parte cominciare a ragionare tutti insieme su un fenomeno che è critico, perché la nostra percentuale di ragazzi che non arrivano al diploma è la più alta della Toscana e una delle più alte d'Italia, è il 22%. Tutti insieme dobbiamo cominciare a capire, ad analizzare il dato e vedere approfondendo qual è la situazione, confrontandola con il resto della regione, capire perché abbiamo questo fenomeno. Saranno due giornate importanti, per questo naturalmente ringrazio il provveditore, il dottor Curtolo, che ha avuto questa idea. Credo un progetto assolutamente che poi la provincia sposerà e porterà avanti in maniera costante, annualmente, perché darà l'opportunità, come si diceva, agli studenti e alle famiglie di avere informazioni concrete per un orientamento più consapevole. Credo che molto anche delle problematiche legate anche all'abbandono scolastico e poi alla ricerca del lavoro siano legate anche al fatto che dobbiamo avere più contezza di quali sono le opportunità lavorative dei nostri territori.